In alcuni contenuti, in alcuni atteggiamenti e modi sicuramente alcuni si sono mossi come avversari politici. Penso per esempio a Pellegrino, a cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile, che ha pontificato per molti giorni anche sui media, con un atteggiamento chiaramente personale nei miei confronti. Si è visto un accanimento. Hanno cercato, soprattutto all'inizio, un anno fa circa, a farmi fuori politicamente e istituzionalmente. Non ci sono riusciti, ma perché abbiamo reagito in una condizione messi nell'angolo. Ecco, come insegna lo sport. Ma è mollare, visto che stiamo parlando di schermo e di sciabola. Non abbiamo mollato, umilmente siamo andati per strada e ci siamo ricostruiti una rigenerazione politica ed umana. Poi hanno continuato ancora dopo e anche ora, fino a poco tempo fa, si devono rassegnare che questa esperienza politica va sconfitta nelle urne. Noi nelle urne ci ripresenteremo e saranno i cittadini a decidere se dobbiamo continuare o ci dobbiamo fermare. Possiamo perdere, ma non ci perdiamo. Ma soprattutto non accettiamo colpi bassi. Così come nello sport l'avversario lo devi guardare negli occhi. Qua hanno cercato con mezzucci di farci fuori. Noi siamo stati, secondo me, bravi, lo dico senza presunzione, a resistere. Poi ho avuto bravi avvocati, perché abbiamo fatto anche giurisprudenza in questa materia. Le lotte non sono finite nemmeno nelle sedi giudiziarie perché c'è quella sentenza clamorosamente ingiusta e inaccettabile, quella di primo grado di Roma che deve essere riformulata. Quindi mi deve rendere giustizia e poi attendiamo con serenità la Corte Costituzionale.